Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere una mappa che dà veramente veramente tanti xp Allora, il codice è 6 1 9 6 8 5 21 9 8 2 5 Ora devi schiacciare e gioca Partita privata e si fa Quando finirà il caricamento vi troverete qua Ok? Vedete? Qua c'è questo pulsante Andateci contro e già come vedete vi darà xp Perché ci sono tantissimi xp in questa mappa Poi cercate qua, vedete questi punti di domanda, cliccate E vi darà altri xp Poi andate qua Prendete questo e un cecchino Ok? Questo qua lo dovete andare a usare Lo dovete andare a usare In un punto Vedete questa mela? È strana Voi quindi, voi dovete fare Ho sbagliato il tasto Dovete fare così Vi diventerete una mela Poi vai qua E vi darà altri xp Perché ce ne sono tanti Poi prendete il cecchino Poi prendete il cecchino Dovete cercare la cosa verde Che se non mi ricordo male Si dovrebbe vedere da qua Ecco, vedete questa cosa verde? Chi c'è scritto xp L'ho visto l'ora Dovete prendere il cecchino Cercare dov'è Perché l'ho già dimenticato Dov'è Ecco, lo vedete? Vedete? Dovete Mirare col cecchino E prendere la moneta E vi darà altri xp E ce ne sono ancora Ve ne mostro un altro Dovete Dovete fare una piattaforma qua Vedete? Sono per cadere Poi dovete andare qua Qua c'è scritto Un segreto Qua c'è un segreto E che cosa succederà? I drag xp Poi c'è l'ultimo E spero di non sbagliarmi Qua perché mi piace Spero di non sbagliarmi E Fate una piattaforma qua Vedete? E vi darà Altro xp Continuate così E vi darà xp all'infinito Non finiranno mai Ok? Ora vi faccio vedere un'altra mappa E ok Ora c'è questa mappa Vedete? Che il codice è FEI 141 141225989 Se volete vedere tutto il codice Mettete paura Ora giocate E vi faccio vedere tutto il codice